Rossella Brescia, madrina della serata e non solo, sportiva DOC per questo grande evento. Che cosa ne pensi di questa possibilità di parlare a nuove generazioni attraverso lo sport e la comicità? Beh, innanzitutto sono felice di trovarmi in mezzo a tantissimi bambini, loro che sono il futuro, che saranno il futuro di questo mondo. E' bello vederli così interessati allo sport e interessati anche a tutto quello che succede nel mondo dello sport, che sia calcio in questo caso. E poi, perché no, farsi due risate fa sempre bene, quindi ci sta. Spero che i bambini si divertano molto questa sera. Un augurio per questo 2016? Il mio più grande augurio può sembrare fosse banale, però vorrei che tornasse la pace e la serenità in questo mondo che è veramente tanto vessato da tutte le parti. Questo è l'augurio più grande che possa farvi. Rossella, grazie di cuore. Grazie a voi. E buon lavoro.